Grazie a tutti Saluto il pubblico di Giacchetti Salutiamo il pubblico di Roberto Giacchetti Com'è andata Bobo? Avendo pubblicato noi ieri sera posto dove andavamo e da ieri notte ci sta la lama che in continuazione passa e il risultato lo abbiamo ottenuto L'importante che abbia funzionato è che tra l'altro dicono che noi lo facciamo soltanto a Roma in modo provocatorio io da sindaco a Firenze la prima cosa che chiesi era questa, cioè io feci la fondazione degli angeli del bello, ti ricordi che ne parlavo che campagna elettorale per farsi dare una mano dai cittadini La raggi oggi ha messo su Facebook Risponde Giacchetti Risponde Giacchetti Ciao Ci ha salutato il popolo giacchettiano L'unico che non ha fatto l'azzo è stato io Renzi ma Cinque Stelle dicono che è un'operazione un po' populista Tutta la parte politica la fa Nobili e Giacchetti E' un'operazione un po' populista dicono i Cinque Stelle Che significato ha a fare questa cosa? Ciao Eh no eh, ci sto prima io Ciao Ma dove va Renzi? Ciao papo Ciao via Ciao papo Ciao